Ciao a tutti ragazzi Eccomi qui con la rubrica dedicata ai boss Allora ragazzi, avete già capito dove mi trovo, no? Qua dietro c'è Scarica Infinita Ok, questo è il secondo tentativo Quel pezzo di merda mi ha ucciso In realtà è una cazzata a ammazzarlo, veramente E sono morto come un idiota Cioè, veramente una sconfitta che non accetto Perché stava andando tutto perfetto Ora Andiamo e poniamo fine Al combattimento, come si deve Ma sei un culattone, no? Una volta, te ne do tante, guarda Allora ragazzi, devo recuperare prima di tutto Quei 14 milioni di anime sudati in PvP Onestamente Eccoli là E poi possiamo iniziare Beh bello mio, ora arrivo Vieni, vieni di qua Ma colpirlo no, eh Dai Oh, riesci sempre a prendere questo cazzo di colpa E io ho la profondità della vista Che fa paura Porca troia Vabbè Allora Ammette che no Sesso di merda Vai, continuo a dare lo stesso attacco Che le braccinate le taglio Vai, bello mio Continua così Vedete, in realtà è una gran cazzata Ammazzarlo, veramente Procreate che mouvera Degli attacchi più potenti Tu sei un pezzo di merda E non te l'ha mai detto nessuno E io sono anche un grande Perché mi curo Vabbè, ok, finiamola Vaffanculo Ok Certo che Avermi fatto Essermi fatto ammazzare Veramente Al primo tentativo Era proprio una gran stronzata Ragazzi Da sto, da sto coso Ma vabbè Ok Qua ci sblocchiamo la via Per i prossimi Nostri boss E ho su di ritorno Ok ragazzi Io chiuderei qui il video L'armatura lì avanti L'ho già presa E niente Spero vi sia piaciuto E Un saluto a tutti E ci vediamo al prossimo video Bye bye